Bocche cucite dai vertici della piaggio dopo il CDA fiume incentrato sulle sorti della società. Secondo fonti vicine ai vertici di Mubadala, Fondo Statale degli Emirati Arabi che guida la realtà industriale ligure, l'idea sarebbe quella di guadagnare tempo prima di prendere ogni decisione, soprattutto prima di portare i libri in tribunale. Si attende una possibile operazione di salvataggio da parte del governo italiano, ma anche notizie sulla trattativa di cessione avviata da tempo col gruppo PAC Investment. La trattativa per cedere almeno una parte degli asset di Piaggio Aerospace non si sarebbe infatti mai fermata. Resta ovviamente alta l'attenzione da parte dei delegati sindacali e dei lavoratori sulla trattativa ancora in corso tra proprietà Piaggio Aerospace, governo degli Emirati e governo italiano. RSU e segreterie sindacali provinciali hanno nuovamente sollecitato l'azienda a fissare un incontro urgente anche con il coinvolgimento del prefetto di Savona. Al Salone di Dubai il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana ha diffuso dichiarazioni confortanti circa la proseguizione delle attività tra governi sui programmi della difesa e ha richiamato l'impegno per la commessa di droni alla Piaggio, ma incertezza e preoccupazione in questi momenti prevalgono.